Il fenomeno migratorio è senz'altro complesso, mi riferisco ad esempio ai 170.000 immigrati, come detto in accoglienza in questo momento, che hanno visto una riduzione nell'anno scorso, grazie a operazioni utili e intelligenti di chi mi ha preceduto sul fronte della riduzione del numero degli sbarchi, cosa alla quale cercherò di lavorare ancora di più. Ci sono alcune stranezze, la prima etnia per sbarchi quest'anno è rappresentata da circa 3.000 cittadini tunisini, io mi periterò di andare il prima possibile a incontrare il mio collega tunisino perché mi sembra che risulti un paese libero, dotato di autonome istituzioni, non è vittima di guerre, pestilenze o carestie e quindi cercherò di portare tutto il conforto e l'aiuto necessario da parte del popolo italiano al popolo tunisino per far sì che questi ragazzi e queste ragazze possano crescere e cercare un lavoro e una vita nel loro paese piuttosto che metterci su un barcone. Ci sono altre 3, 4, 5 pagine ma preferisco dedicare il tempo a voi piuttosto che a leggere numeri. Ci tengo a dire che in queste ore ho sentito tanti colleghi europei, leggevo che l'Italia è isolata, penso che non siamo mai stati così centrali e così ascoltati come in queste ore. Ho parlato col collega tedesco con cui abbiamo condiviso il fatto che occorre tornare a ragionare di protezione delle frontiere esterne italiane come frontiere europee e non solo italiane. Non possiamo essere gli unici a fare quello che meritoriamente facciamo nel Mediterraneo sopportandone costi economici e costi sociali. Se l'Europa c'è, batta un colpo adesso o taccia per sempre. Noi gli abbiamo dato l'occasione e l'opportunità, ho sentito il collega francese, nei prossimi ho sentito il collega ungherese, incontrerò il collega austriaco, ho sentito ambasciate di diversi paesi, dalla Tunisia alla Libia. E quindi c'è un'attenzione che non c'è mai stata, sta a noi adesso giocarci le carte in maniera propositiva, non solo negativa. Quindi il regolamento di Dublino oggi evidentemente va superato. Hanno provato a imporci una norma che avrebbe ulteriormente aggravato la situazione in Italia, con una permanenza fino a dieci anni di ulteriori migranti senza nessuna possibilità di essere accolti in altri paesi. Noi oggi abbiamo concordato un no costruttivo e penso che col collega tedesco e col collega austriaco, visto che dal primo luglio la competenza della Presidenza europea sarà dei colleghi austriaci, proporremo noi una nostra iniziativa sul fronte interno e sul fronte esterno.